buongiorno mie bellissime lucine oggi vedete sul mio tavolo un tripudio di filati filati ovviamente merceria italia artisan perché voi sapete che io solo merceria italia artisan sono una fedelissima quindi tutto quello che vedete qui è di merceria italia artisan e di ora uno ad uno vi andrò a far vedere i miei acquisti e quindi quello che ho acquistato e vi darò anche la mia opinione sincerissima di quelli che sono appunto i filati allora vi dirò già che non mi sentirete parlarne male non perché francesca sia mia amica ma perché ha un ottimo gusto in fatto di filati e quindi prende solo filati buoni e nella sua merceria troverete sempre novità novità in ogni stagione più ovviamente i classici che tiene sempre perché sa che piacciono molto e che tiene sempre quindi partiamo con non lo so sigla e poi lo vediamo insieme intanto ho allontanato tutti i filati per farvi vedere queste bellissime cosine a me piacciono tantissimo allora sono i marker di katia filati e dentro questa bellissima scatolina e vi dico che sono 60 marker in sei colori diversi e ve li faccio vedere subito proprio rovesciandoli sul tavolo guardate che belli che sono sono uno più bello dell'altro in sei colorazioni diversi e sono stupendi veramente bellissimi oltretutto li trovo molto molto comodi a parte il fatto che di solito i marker di plastica se si tirano troppo si rompono questi marker hanno la caratteristica di essere in metallo quindi come delle piccole spille a balia si possono allargare come vedete e poi stringere quindi non si rompono invece a me è capitato di dover allargare quelli di plastica e sentire crack e via buttiamo via il nostro marker quindi questa è la prima cosa che voglio farvi vedere di merceria italia artisan perché è una novità che ha portato quest'anno e sono veramente molto belli li vedete sono azzurro acqua verde rosa arancio giallo viola sono veramente bellissimi e veramente utili li ho già utilizzati infatti nel progetto scorso per marcare i punti quindi ve li avevo già fatti vedere ma volevo farveli vedere proprio in una video recensione questi ve li stra consiglio piccolo piccolo prezzo perché veramente costano pochino ora io i prezzi qua non ve li metto andate sul sito ma è veramente prezzo piccolino per 60 marker veramente molto belli dopo i 60 marker veramente molto belli trovo molto molto belli anche questi uncinettini da portare sempre con noi guardate che carini che sono è sempre di caricati affilati li trovate sempre da merceria italia artisan e hanno le tre misure classiche sono tre in tre misure classiche quindi le più usate che sono il 3 mm il 5 mm e il 4 mm poi va beh girandoli potete leggerli come volete comunque sono il 3 il 5 e il 4 in colori diversi veramente piccolini molto maneggevoli perché vedete sono molto maneggevoli perché vedete sono molto maneggevoli gli altri rimangono nella mano e questi volendo se proprio proprio li potete anche staccare perché sono attaccati ad un semplice gancio porta chiavi quindi anche questi sono li trovate da merceria italia artisan anche questi con un piccolissimo prezzo e sono veramente comodi per quando volete portarli con voi questi sono proprio le tre misure quelle più usate di solito per lavorare all'uncinetto ora vorrei farvi vedere gli alise diva questi sono gli alise diva classici quindi il silk effetto effetto seta veramente li ho usati tantissimo anche in altri progetti perché hanno una luminosità si lavorano benissimo io di solito li lavoro col 3 3 e mezzo ma se avete una mano più stretta secondo me anche il 4 poi dipende dal progetto dipende dalla ariosità che volete dare al vostro progetto ma io uso moltissimo questi filati nello specifico abbiamo questo turchese acqua e questo rosa antico adesso vi do le caratteristiche del filato allora il diva ha un gomitolo da 100 grammi per 350 metri ben 350 metri allora voi spesso mi dite ma perché mi dici metri non mi dici quanti gomitoli ci vogliono per fare questo per fare quell'altro e parli sempre di metri perché ovviamente 100 grammi di diva ad esempio sono 350 metri se io prendo 100 grammi di facciamo un esempio ho qui il filato fiocco che vi mostrerò tra poco due gomitoli fanno 250 metri e sono sempre 100 grammi quindi io parlo sempre in metri perché dipende dalla composizione e dal peso del filato quindi è inutile parlare di grammi ma è sempre meglio parlare di metri per essere sicuri di avere la giusta quantità di filato per un progetto ecco comunque andiamo avanti a parlare del diva io ho qui in mano il rosa che è il colore 363 veramente bellissimo e il turchese acqua che è il colore 376 sono stupendi veramente meravigliosi ma ve li voglio mettere vicino ad altri diva che sono un po più particolari con me qui ho il diva stretch sempre silk effect ma a differenza di questo diva è elasticizzato quindi possiamo usarlo anche per i progetti estivi quali costumi canottine che vogliamo che abbiano una vestibilità un po stretch quindi che siano più elastiche per tutti quei progetti di cui abbiamo bisogno una maggiore elasticità e adesso vi dico le caratteristiche di questi il diva stretch ha una metraggio di 400 metri su 100 grammi di filato e io voglio farvi vedere proprio che il filato guardate è elastico quindi volevo farvi vedere proprio l'elasticità del filato perché se io prendo un altro filato questo non posso farlo è veramente molto molto elastico lo trovo veramente un filato fantastico io qua ho un bel tortora e vi dico che la colorazione è la 167 e poi ho qui un bel io direi è più un perla che un beige perché è veramente sì è più più un perla ecco più un color perla ed è il color 382 questi filati sono magnifici al tatto liscissimi e poi sono proprio molto molto elastici hanno una composizione leggermente ecco una consistenza leggermente diversa dai dall'alise diva normale questo rimane molto liscio e molto luminoso questo oltre ad essere liscio e luminoso anche proprio una morbidezza diversa data dall'elasticità del filato è un microfibra ecco è una microfibra 100 per cento naturalmente però è una microfibra estiva quindi ha una freschezza che certamente non può darvi un sintetico invernale ecco quindi una microfibra meravigliosa e questi sono i diva che avevo da presentarvi ora passiamo al filato fiocco il filato fiocco l'avete visto in vari lavori l'ho usato tantissimo e ne ho qua due diversi tipi anche se le colorazioni sono tre i tipi sono due allora qua il normalissimo fiocco tinta unita e il fiocco lame che io non so se rende bene ma è molto molto luminoso ha dentro un filo di lurex cangiante quindi la composizione varia ma veramente di poco il fiocco tradizionale è un 100 per cento cotone il fiocco lame è un 90 per cento cotone e un 10 per cento lame ovviamente perché ovviamente il lame non può essere cotone è un sintetico vi dico che la sua metratura è 50 grammi per 125 metri esattamente come il fiocco tradizionale vi dico anche le mie colorazioni quindi questo è il colore 70 30 veramente molto bello ve lo consiglio perché ha un ottima qualità e un prezzo piccolissimo veramente un prezzo piccolissimo il fiocco è meraviglioso questo è un 100 per cento cotone il suo colore è il 76 37 questo bellissimo turchese mentre questo bellissimo color azzurro acqua chiamiamolo così è il colore 76 12 il fiocco è un classico che troverete sempre da merceria italia artisan mentre altri filati variano da stagione a stagione da dal fatto che le aziende magari li producono in edizioni limitate e quant'altro questo è un filato che trovate veramente sempre perché è un classico va benissimo anche per fare gli amigurumi io lo uso per l'abbigliamento ma va benissimo anche per fare gli amigurumi è un filato che io straconsiglio sempre novità di quest'anno di merceria italia artisan la nagattolina fashion abbiamo il cookie un filato veramente spettacolare sia per composizione che per metratura perché questo filato veramente ha una metratura che è quasi infinita e ora andiamo a leggere tutte le specifiche di questo filato però prima voglio farvi vedere come luccica è liscissimo al tatto nonostante ci sia il luccichio perché a volte quelli che luccicano pizzicano in realtà questo qui non pizzica ed è bellissimo questo color quasi corallo non so descriverlo è un pesca ecco no non è un corallo è un pesca ecco già così io i nomi dei colori però dopo vi dico comunque la numerazione del colore così se lo volete uguale potete andarlo a prendere nonostante il mio improbabile la mia improbabile descrizione del colore ecco vi dico che questo filato ha una metratura infinita perché 50 grammi 50 grammi sono 350 metri veramente una roba infinita ci dà come uncinetto ferri il numero 3 io vi dico che sì il numero 3 è fattibile assolutamente diviene una lavorazione ovviamente ariosa poi dipende dalla vostra mano io ho una mano molto morbida quindi per me viene una lavorazione ariosa per chi ha una mano stretta probabilmente viene una lavorazione classica quindi non tanto ariosa la sua composizione è dell 85 per cento cotone quindi altissima composizione di cotone 11 per cento poliamidica nylon ma è lo sberlucicchio che vedete e il 4 per cento poliamide sempre lo sberlucicchio che vedete quindi comunque la composizione è altamente di cotone sì lo definirei lo definirei un pesca questo comunque il suo colore ve lo dico subito perché altrimenti poi non potete sapere quale è è il 95 84 questa è un'edizione limitata di lana gatto quindi vi consiglio se lo volete di correre perché quando ci sono le linee fashion non sono mai produzioni continuative quindi a volte lo trovate a volte non lo trovate e se lo trovate acquistatene qualche gomitolo in più in di modo da non rimanere senza ora passiamo ad un filato che mi mi ha sconvolta mi ha realmente sconvolta questo filato è il retape craft di katia filati che è un cotone riciclato è bellissimo è meraviglioso ragazze veramente bellissimo ed è un 50 per cento cotone riciclato e 50 per cento poliestere riciclato quindi comunque tutto di riciclo questo filato e vi faccio vedere questa colorazione questo è un filato un po più corposo non è ritorto come potete vedere quindi se volete qualcosa che assomigli quasi alla fettuccia ecco potrei quasi descriverlo come una fettuccia per a vederlo ecco però non ha la rigidità della fettuccia ed è veramente molto bello vedete sono tanti fili non intrecciati che danno questa fettuccia fettuccina diciamo veramente molto bello adesso io toglierò la fascetta così mi verrà più facile trovare tutte le indicazioni di questo stupendo filato la composizione ovviamente ve l'ho già detta perché è un 50 per cento cotone riciclato in 50 per cento poliestere riciclato il colore è il 301 e qui dice che si lavora con i ferri oppure l'uncinetto 5 e mezzo 6 io vi dico che secondo me anche il 4 e mezzo è possibile dipende dalla vostra mano e da che tipo di progetto dovete realizzare questo cotone è questo filato è meraviglioso e poi guardate è molto molto bella la colorazione perché è una colorazione quelle che io definisco quasi unicorno ecco questo sempre un filato di katia e sempre proposto da merceria italia artisan anche questo è un filato di quelli nuovi quindi quelli proposti in questa stagione ovviamente non so se verranno riassortiti quindi correte a guardare le colorazioni a sceglierle e correte ad acquistarli nel caso vi piacciono perché guardate veramente un cotone fantastico e poi è molto 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 fresco nonostante abbia ecco una uno spessore abbastanza grosso è molto molto fresco quindi lo straconsiglio consiglio anche questo rimaniamo con katia filati e abbiamo katia armonia non stop creativity perché questa cosa questa è una limited edition lo leggete anche qua quindi anche questa mi raccomando se vi piace andate sbirciate le altre colorazioni ed acquistatelo perché è una limited edition e le limited edition vi dico che non dipendono tanto da chi le commercia ma dall'azienda in sé può essere che da un momento all'altro l'azienda decida di non produrre più questo filato e quindi voi non lo trovate più se vi piace acquistatelo ora vi faccio vedere la compu la colorazione però guardate qui questa è una magnificenza allora partiamo dal color acqua all'esterno che è meraviglioso si va su un azzurro poi passa ad un verde che piano piano diventa un credo beige ma non è un beige questo perché punta un po sul giallino fino ad arrivare a quello che io adoro vicino all'azzurro che è un marrone ma non abbiamo finito qua perché guardate qui all'interno abbiamo un petrolio è qualcosa di spettacolare le caratteristiche adesso le vedremo insieme questo filato è un cento per cento cotone lavorabile qui dice con ferri tre tre e mezzo con uncinetto che va dal tre al tre e mezzo anche lui ora vi dico la sua metratura anche questa è fantastica perché per centocinquanta grammi abbiamo ben 540 metri di filato è meraviglioso per ultimo ma non per importanza anzi no aspettate non è l'ultimo è il penultimo ma non per importanza abbiamo qua tre sfere linea luxury il guaranà meraviglioso oggi l'ho toccato per la prima volta vi assicuro che non pensavo fosse così ed è freschissimo tra l'altro adesso vi faccio vedere è un cotone stampato guardate che bello veramente bello dentro la base è un bianco e poi ha dentro tutte queste stampe di vari colori dal violetto all'azzurro al grigio scurissimo veramente molto bello l'arancione all'interno troverete anche il verde vediamo se c'è qualche altra sorpresa no ci fermiamo al viola è veramente un gomitolo bellissimo guaranà ora andiamo a vedere è un cento per cento cotone 100 grammi per due cento metri ci consigliano ferri uncinetto del 4 secondo me sì se avete una mano più larghina anche il 3 e mezzo però secondo me il 4 va benissimo e se volete una lavorazione larga anche un 4 e mezzo è veramente un bellissimo filato uno stampato meraviglioso veramente meraviglioso sono rimasta scioccata quando l'ho visto ma devo dire che con tutte le novità di merceria italia artisan quest'anno sono rimasta molto molto scioccata perché ha portato delle novità veramente molto belle questo non so se è un'edizione limitata comunque vi consiglio di andare a vedere sul sito anche le altre colorazioni questa nello specifico vi dico che è il colore 25 quindi se volete prendere il mio stesso gomitolo che vi dico sarà protagonista del prossimo tutorial vi consiglio proprio di andare a sbirciare come dice francesca sul sito questo fantastico filato ora passiamo all'ultimo e ripeto sempre non per importanza l'ultimo filato che vi faccio vedere il cotton star cake vi arriverà in questo sacchettino legato con il suo nastrino ma io l'ho già aperto perché voglio farvelo vedere in tutta la sua bellezza allora innanzitutto a l'isist art quindi trovate vedete l'isist art è uno sfumato che va da un grigio un grigio antracite direi fino ad arrivare a un bianco con un lurex argento veramente molto molto bello guardate qua è uno splendore vado a prendere le etichettine e vi dico che è un 90 per cento natural soft cotton e ovviamente il 10 per cento di lurex ma non pizzica quindi vi dico che è fresco e non pizzica 270 grammi per tenetevi forte mille metri quindi allora vi viene o uno scialle gigantesco con un punto chiuso oppure con mille metri ci fate tranquillamente una maglia taglia m perché poi dipende dalla lavorazione per carità più è traforata se più traforata se meno traforata ma una maglia con una cake di queste assolutamente vi viene perché ha una metratura infinita e io l'anno scorso avevo fatto un progettino e vi assicuro che avevo usato un terzo di cake per fare quel progettino che poi rifaremo insieme quest'anno forse proprio con questo perché è un filato meraviglioso che io amo molto lavorare perché ha una torsione che non è né troppo stretta né troppo larga quindi non vi si infila l'uncinetto tra i fili però vi dà comunque l'effetto di morbidezza e di leggerezza perché non è ritortissimo facile la partenza dall'interno quindi partirete dalla parte chiara se vorrete io però consiglio sempre di partire dalla parte chiara perché scendendo diciamo che se abbiamo delle curve la parte scura la parte scura smorza un po le nostre curve quindi va un po a mascherare quelle che sono le nostre rotondità ovviamente se non volete partire dall'interno è anche facilissimo partire dall'esterno quindi se volete partire dalla parte scura nessuno ve lo vieta perché troverete tranquillamente il capo esterno quindi potrete lasciare l'easy start all'interno e partire dall'esterno quindi potrete tranquillamente decidere di partire dove volete se dovrete fare un capo più ampio che richiederà più di una cake anche il fatto di avere l'easy start è molto importante per avere una continuità di colore quindi se voi finite con la parte chiara è facile poi riagganciarvi con la parte chiara se finite dalla parte scura siccome il capo esterno si trova benissimo potrete tranquillamente ripartire dalla parte scura quindi questo è un filato assolutamente che vi consiglio ma come tutti quelli che io vi ho fatto vedere e che ora riporto vicino a me per averli tutti qui ammassati davanti a me e concludere questa recensione di filati assolutamente strepitosi quindi non posso che dirvi aspettate che ho lasciato fuori i marker che sono bellissimi li metto qua al centro e gli uncinettini altrettanto belli non ci sta tutto nell'inquadratura perché sono fantastici meravigliosi e voluminosi visto quanti sono io vi saluto spero che questa recensione possa esservi utile naturalmente mi raccomando merceria italia artisan andate a sbirciare come dice la nostra amica franci e inoltre vi dico che le spese di spedizione sono piccole 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 perché sono 1 euro e 99 di spese di spedizione fino a 29 euro e 99 dopo i quali sono addirittura gratuite ci sono vari metodi di pagamento ne ha aggiunti tantissimi francesca di metodi di pagamento tra cui anche addirittura rateali quindi ragazze non potete non andare da merceria italia artisan con questo vi saluto ciao da luci al prossimo non direi tutorial perché questa è una recensione però il prossimo sarà un tutorial ciao